Un percorso emozionale immersivo tra design, tecnologia e ricordi per ripercorrere la storia degli ultimi 50 anni. Ad Arezzo il palazzo di fraternità ospita Icons, una singolare esposizione che porta il visitatore a compiere un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso oggetti iconici appunto che hanno segnato un'epoca. Si è proprio puntato su quello, tutto ciò che ha fatto icona, che è un'icona, quindi persone, oggetti, auto, film nei nostri ultimi 50 anni proprio come omaggio della Fiera Antiquaria abbiamo voluto colpire sui ricordi perché poi sono quelli che ci danno emozioni. Dagli anni 60, 70, 80 dalla radio a valvola fino al Walkman, dalle televisioni con il tubo catodico a quelle con il plasma. Il materiale scientifico è offerto dal Museo dei mezzi di comunicazione e gli oggetti molti prestati dagli antiquari aretini. Qui ci sono due tematiche in particolar modo che sono la televisione, quindi sono 30-40 anni di televisione delle quali due le abbiamo rimesse in funzione proprio per questo mostra come documento e la seconda tematica sono quelli dei transistor che sono qua, che sono designer per la prima volta applicati negli anni 70 e 80 sulla miniaturizzazione dell'elettronica. Sono tutto il percorso della nascita del videogioco e quindi si parte dalle prime console fino alla fine anni 80 in cui si avevano i primi giochi più evoluti a colori con un monitor che si avvicina molto al videogioco di oggi. Il percorso è molto ampio, infatti si parte dalle console iniziali dove all'inizio c'era soltanto un monitor e appena qualche linea di luce e qualche pixel per rappresentare con molta fantasia un campo da tennis. La mostra, realizzata dalla Fondazione Arezzo in Tour con il Comune di Arezzo, è curata dall'architetto Roberta Galantino con la collaborazione del designer Giacomo Sembolini.